Addio non Luigi Panzeri, scomparso negli scorsi giorni a Cassago Brianza, al missionario laico fondatore degli Amici di Ndugu Zangu, associazione che da 25 anni gestisce in Kenya, all'imbocco della Rift Valley, una comunità dove vengono assistiti donne e bambini bisognosi. Imprenditore di Ile di Cassago Brianza, Luigi Panzeri, 85 anni, da giovane aveva collaborato con alcune organizzazioni di aiuto dei bisognosi in Kenya. Nel 1996, una volta rimasto vedovo, ha fondato la comunità ed è andato a vivere nella regione Kenyot, dove è rimasto fino a sei anni fa, quando si sono manifestati i primi sintomi di una grave malattia. Negli anni, grazie all'aiuto di donatori italiani, la comunità si è dotata di una diga, di un orfanotrofio, di un ospedale, di due scuole e di un acquedotto. Ha collaborato anche con Emergency. Attualmente la comunità fondata dal Brianzolo ospita 80 bambini, i 30 dei quali cardiopatici, ai quali vengono fornite ogni giorno cure e assistenza. A oggi sono stati operati 180 bambini e ragazzi affetti da gravi cardiopatie in Italia, nel Sudan, in un ospedale di Emergency e in un ospedale del Kenya. Da gennaio 2019 a dicembre 2020, al centro della salute è stata fornita assistenza sanitaria a oltre 16.000 persone. I funerali di Luigi Panzeri sono stati celebrati mercoledì nella chiesa di Cassago dal figlio Marco, frate. La cerimonia è stata seguita in diretta anche dagli ospiti della comunità kenyota. Centinaia le manifestazioni di affetto, inclusa quella dell'amministrazione comunale.